Da bene ambito a fattore di potenziale disagio. Per il 75% degli italiani le spese relative alla casa, come il condominio, le bollette, le tasse, pesano troppo sul proprio budget familiare. È quanto emerge dal secondo rapporto feder proprietà Censys, la casa nonostante tutto. Tra i proprietari di casa con un mutuo sulle spalle, per il 36% il rialzo dei tassi di interesse ha reso difficoltoso il pagamento delle rate. In maggiore affanno sono i più giovani, il 42% dei 18-34 anni rispetto al 39% dei 35-64 anni e al 26% delle persone con 65 anni e oltre. A livello territoriale, tra i residenti delle regioni del centro e del sud, si riscontrano le maggiori difficoltà rispetto a chi vive nel nord del paese. L'accesso alla proprietà della prima casa è diventato più difficile. Il 59% dei non proprietari afferma che il rialzo dei tassi di interesse ha reso più oneroso e complicato l'eventuale acquisto di un'abitazione. Tra i requisiti fondamentali per l'acquisto futuro di una casa, il 64% degli italiani include la classe energetica. Riguardo alla direttiva europea Casa Green, il 73% degli italiani afferma di esserne a conoscenza. Per il 51% è un atto positivo perché prevede una serie di interventi necessari per ridurre l'inquinamento. Il 40% l'apprezza per il risparmio energetico che ne conseguirà, ma il 22% teme che la sua applicazione possa tradursi in un ulteriore aggravio dei costi di gestione degli immobili.